Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per lavori si segnala la chiusura del tratto tra Aglio e Roncobilaccio fino al 28 febbraio 2022. Stanotte in orario 22.6 sulla direttissima sarà chiuso il tratto tra Aglio e l'allacciamento con la 1 panoramica in direzione Bologna. A Firenze da venerdì tornerà la linea C3 con tre bus Euro 6, 100 corse al giorno dalle 7 alle 20. Infine per i treni per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione nei pressi di Montevarchi i treni regionali potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!